Dal 18 gennaio partono le iscrizioni per le scuole dell'infanzia comunali e termineranno il 29 di febbraio, quindi un periodo abbastanza ampio per consentire alle famiglie di fare la loro scelta. Gli Open Day sono già avviati e ci sarà appunto un lungo calendario di Open Day che è anche pubblicato sul sito del Comune. La novità di quest'anno è che abbiamo anticipato il termine delle iscrizioni e anche teniamo il tempo per consentire alle famiglie di iscriversi abbastanza lungo. Le iscrizioni saranno possibili attraverso il sito del Comune di Napoli, ci saranno poi tutte le informazioni e il link dedicato con anche una guida che accompagnerà passo passo le famiglie. Le nostre scuole dell'infanzia rappresentano un'eccellenza per tutta una serie di scelte che il Comune ha fatto nel tempo, lo scodelamento e quindi un'attenzione particolare anche alla somministrazione del cibo caldo. Invito le famiglie a visitare le nostre strutture molto accoglienti con un bel progetto educativo, i vostri bambini saranno ben accolti e potranno crescere bene.